Buongiorno a tutti, benvenuti a Cavagnolo, sono il sindaco Andrea Gavazza e ora vorrei raccontarvi cosa stiamo facendo per fronteggiare questa emergenza così straordinaria, così impegnativa per la nostra comunità. Ormai da dieci giorni abbiamo attivato il centro operativo comunale e devo dire che Cavagnolo si è rivelato un paese con un cuore grande e tante risorse del volontariato e dei dipendenti pubblici che si sono messe in campo. Vi cito un esempio, in assenza di mascherine, sapete essere difficilmente reperibili, abbiamo coinvolto delle sarte volontarie, le abbiamo coordinate insieme alla nostra proloque e alla farmacia comunale e siamo riusciti a produrre centinaia di mascherine artigianali che abbiamo distribuito tramite la farmacia a molte persone che avevano bisogno. E poi abbiamo attivato i nostri splendidi volontari di protezione civile che insieme al gruppo Alpini e alla Croce Rossa e alla Croce Verde si stanno impegnando in presidi di fronte ai supermercati, nella rilevazione della temperatura corporea, sempre fuori dagli esercizi commerciali, nonché anche nella consegna a casa dei pasti agli anziani che hanno bisogno di questo servizio, ma anche dei libri, dei quaderni che erano rimasti qua nella scuola e le abbiamo portate tramite la protezione civile a casa di tutte le famiglie in modo tale che i ragazzi appunto possano utilizzarli per proseguire la loro didattica. Non mi resta che salutarvi, siamo forti, siamo distanti ma uniti, tutti i nostri comuni della città metropolitana di Torino, ma non solo, questa è un'emergenza che sappiamo interessa tutto il mondo, ma ce la faremo e sicuramente torneranno giorni migliori per noi e per tutti.